. Anticipazioni Grande Fratello 15, Danilo espulso dopo Larissa sfiorata Grande Fratello 15 anticipazioni, scatta la squalifica per Danilo? Ecco il motivo. . Colpo di scena allinterno della casa del Grande Fratello 15, dove in queste ultime ore si sarebbe verificato un nuovo spiacevole episodio che potrebbe mettere a repentaglio la permanenza di uno dei concorrenti di questa edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso. . Il protagonista in questione di questo spiacevole episodio verificatosi nella casa di Cinecittà è Danilo, il ragazzo romano che già nelle scorse settimane era stato criticato per una serie di post-omofobi apparsi sul suo profilo ufficiale Facebook. . Rissa sfiorata al GF 15, Danilo nei guai. Questa volta, invece, Danilo è stato accusato di sessismo proprio come è già accaduto la scorsa settimana con Luigi Favoloso che dopo tale accusa venne fatto fuori definitivamente dalla casa più spiata d'Italia. . L'episodio che riguarda Danilo ha a che fare con Lucia Bramieri, tra le concorrenti più anziane di questa quindicesima edizione del GF e per questo molto rispettata dal gruppo. Luigi in un momento di pura goliardia con alcuni dei concorrenti maschi della casa si sarebbe lasciato scappare vd delle frasi molto forti nei confronti di Lucia. . A quanto pare il concorrente romano avrebbe detto che le gli avessero offerto del vino si sarebbe potuto infilare anche nel letto della Bramieri. Una frase decisamente di cattivo gusto che ha mandato su tutte le furie Lucia Bramieri, la quale in queste ore si è scagliata duramente contro il ragazzo e lo ha accusato di sessismo. Danilo viene squalificato dal GF 2018. La Bramieri, infatti, sostiene di essere stata ferita e umiliata come donna e proprio per questo motivo vorrebbe che la produzione del Grande Fratello 15 prendesse dei seri provvedimenti nei confronti di Danilo, il quale a questo punto potrebbe essere squalificato dalla casa. . Ma chi ha rivelato a Lucia Bramieri ciò che Danilo aveva detto? A fare da spione è stato Simone Coccia, che dopo questa confessione è stato al centro di un'accesa disputa proprio con Danilo e Filippo, i quali si sono scagliati duramente contro di lui. Simone è stato accusato di voler mettere zizzania tra il gruppo e in particolar modo tra Danilo e Lucia, dato che tutti in casa sanno che i rapporti tra i due non sono dei migliori, dato che fin dal primo momento non hanno legato. . Ecco perché ieri sera all'interno della casa del GF 2018 è stata sfiorata la rissa tra Simone, Danilo e Filippo. Come si comporterà a questo punto la produzione? Danilo sarà espulso per davvero. .